benvenuti e bentornati a un nuovo video del coat dello svapo signori bentornati oggi andiamo a vedere un'altra box una cosa ragazzi particolare e molto interessante molto spettacolare samurai box mod eccoci qui ragazzoni eccoci qui con la samurai box mod bottom feeder andiamo a vedere la scatolina dove arriva eccola qua una scatolina nera abbastanza semplice con questa raffigurazione con le spade del samurai con samurai e il teschio disegnati molto molto particolare molto carina apriamola all'interno troveremo questo cartellino dovete scrivere dove ci chiama l'attenzione scrivendo che la seguente box stata realizzata da jshop è testata in tutte le sue parti si raccomanda di essere esperti questo lo raccomando anch'io perché è una box bottom feeder meccanica e o e o ad avere un minimo di esperienza non usate batterie difettose o sbucciate e questo ve lo spiega anche il signor coatto sul video delle esplosioni delle box o in realtà dei meccanici e grazie per l'acquisto da questa parte di qua troviamo il marchio con la scritta samurai box mod numero di serie jshop numero 20 samurai box e la firma del modder questo per quanto riguarda il cartellino ovviamente all'interno troveremo la box con questa sacchetta molto vintage sarà qua dentro e eccolo qua la microfibra per pulirla e pulire la box questo per quanto riguarda le opzione della scatolina e che cosa c'è al suo interno ma andiamo a vedere la box la samurai allora eccola qua la faccio vedere con il samurai scavato all'interno dell'ottone la box ovviamente come si vince è costruita interamente in ottone questa è la vera novità credo sia la prima box bf costruita in ottone navale vedete il samurai inciso come ho detto questo dopo andiamo a vedere a cosa serve è per la batteria anche innovativo il tastino credo sia plastica o derlin ragazzi è veramente molto molto comodo io prima ho provato ad usarla con l'atomizzatore è qualcosa di fantastico questo tasto veramente veramente bello innovativo soprattutto funzionale fino a fin d'ora non ho mai provato un tasto così così eccezionale su una box qua questo spettacolare scritto samurai direttamente scavato nella box andiamo a vedere la vasca con il pin ovviamente pin e vasca in argento apriamo lo sportellino sotto ci sono i tre fori di sfiato per la batteria andiamo a vederla intera internamente troviamo una boccetta super soft da 8 ml e mezzo ecco l'interno con il pin vasca in argento puro signori la lamella stessa cosa in argento puro ma la particolarità è proprio nella conduzione elettrica perché perché non abbiamo una lamella per il negativo ma il negativo lo fa direttamente l'ottone e questo per quanto mi riguarda credo è un vantaggio per quanto concerne la reattività e la conduttività perché sentiamo proprio un passaggio andrà direttamente a passare dal negativo sulla parte dell'ottone e poi ci sarà solo la lamella del positivo che anche essa è in argento puro con una vernice particolare di colore rosso questo per quanto riguarda l'interno della box questo foro qua che vedete a cosa serve serve a questo mettiamo la batteria per non andare a sbattere come le solite box o quant'altro che facciamo da dietro andiamo a pigiare questo foro e andiamo comodamente a togliere la nostra 18650 questa è veramente una cosa carina e funzionale eccola qui credo che non c'è null'altro da dire per quanto riguarda ah mi dimenticavo ovviamente il pin regolabile smontando questa questo bullone qui andiamo con una pinzetta delicatamente anzi credo che sia eccola qua la chiave esagonale una semplice brucola scusatemi 99 per cento si regola così andiamo a svitare questo bullone interno e con una brucolina alziamo o abbassiamo il pin della box ovviamente per inserire un nostro eventuale atomizzatore eccolo qua credo di aver detto tutto per quanto riguarda il dettaglio non mi sento di dire tecnico perché non lo sono ma diciamo il dettaglio di alcuni di alcune caratteristiche della box bottom feeder direi che possiamo andare al face to face per le nostre considerazioni vediamo un po come funziona questa box ciao eccoci qui ragazzi bentornati abbiamo visto più nel dettaglio questa boxina in un ottone bottom feeder allora signori ovviamente cominciamo un po da un po di di critica prima di passare a diciamo ai pregi che sono tantissimi sono veramente tanti allora l'unica critica adesso insomma l'ho provata da poco che posso fare a questa aspetta giusto un attimo il tavolo che sto avvalando la samba ok l'unica critica che posso fare è per la questione peso ma perché? perché mi è stato riferito il discorso che pesasse 100-120 grammi ovviamente non pesa 120 grammi sicuramente pesa di più caro Sam però rispetto alla costruzione che è in ottone non pesa un cazzo però ovviamente non pesa quei 120 grammi questo è l'unico discorso che mi sento di fare come critica costruttiva ragazzi che lo sbavo è questo però però chiudo qua il discorso della critica il discorso del difettuccio per parlare di un'erogazione veramente di una conduttività di una reattività che io fin d'ora che io fin d'ora non ho mai sentito su una box BF meccanica non è che ne abbia provate chissà quante allora vi spiego ne cito un accaso perché l'ho acquistata personalmente io parliamo dell'Hidra che avevo precedentemente rigenerata rigenerata con lo stesso gun con un filo 20 GA 20 gauge e Nembo fatto 5 spire su punta da 3 aveva un'ottima erogazione un'ottima conduttività questa con lo 074 tira su l'ira di Dio col 21 GA della Nembo allora prove di reattività a parte ragazzi il tasto che è qualcosa di fantastico qualcosa di morbido cioè mai visto nulla di simile mai visto niente del genere fino adesso cioè qualcosa di eccezionale sarà non lo so per via ovviamente sì ci stanno le lamelle in argento pinni in argento eccezionali si sa le conosciamo e credo sia proprio questo fatto del salto di un passaggio nella lamella direttamente con la conduzione a negativo con l'ottone credo sia quello ma personalmente non ho mai visto niente di simile cioè un tasto cazzo sembra un tasto di una box elettronica sembra un tasto di una box elettronica spettacolare spettacolare sconchiamo ci facciamo un altro po' di diri a parte signori mi è venuto su un liquido de cristo ho preso un pop diz che c'avevo della steep vapor con un po' di rimanenza di AV il traste d'AV ho mischiato è venuto qualcosa fuori di spettacolare se vi capita fatelo un drago arriva su un drago infuocato nonostante il materiale della goti sia più piccolo di quello che provai in BF meccanica perché è un 0.074 ovviamente è leggermente più reattivo perché il filo è più fino quello si ma arriva su una boccata incredibile ma me ne sono accorto subito ragazzi quando l'ho provata perché a negozio c'avevo il mio speed revolution rigenerato per una box elettronica quindi con un 0.32 cantal l'ho messo su questo cazzo di samurai box meccanica dico ma che è mi sono sbagliato l'ho fatto con l'acciaio che di solito faccio l'altro strike con l'acciaio per la BF meccanica e c'ha quella erogazione là era quasi simile provato qua sopra straordinario conduttività erogazione straordinaria ovviamente che cos'è è una box bottom feeder creata e concepita più che altro per un discorso da atomizzatori di questo genere qua ovviamente da cloud per mona io adesso sopra c'ho un gun 24 ovviamente è adatta anche si per atomizzatori da guancia speed strike origin vibrate tutti quelli che volete è una box meccanica funziona come una meccanica però ovviamente è stata proprio concepita per un discorso da cloud chasing per mettere atomizzatori da cloud io veramente sono rimasto colpito questi freggi non li faccio sapete come faccio come è il mio stile di video sapete che esprimo le mie considerazioni e sapete che più che altro registro faccio un video proprio a fronte del fatto che sono stato colpito da un prodotto non è ovviamente questo caso perché l'ho preso e ho fatto la registrazione anche per un fine di propaganda visto che le ho acquistate da Sam anche per il negozio però credetemi che se non era un prodotto valido io non lo registravo neanche evitavo le vendevo e evitavo di farlo questo ragazzi è veramente una box e fin d'ora non l'ho mai provato il pregio la cosa migliore che mi piace di più è proprio questo cazzo di tasto è questo cazzo di tasto cioè morbido come pochi sembra un tasto di una box elettronica è fantastico fantastico bravo Sam complimenti ai modder complimenti alla creazione perché è veramente qualcosa di innovativo veramente qualcosa una box bf che ancora non c'era secondo me in giro vale veramente la pena parliamo di un costo di 185 euro questa è la versione full quella un po' più tosta perché ci sono lamelle in argento credo non vorrei sbagliare che esiste anche la versione con le lamelle in rame però ragazzi per 185 euro è veramente qualcosa di fantastico complimenti 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 intanto sto sconca perché ma la goto ma svaporello insieme a voi facciamo un po' vedere l'ampiezza spingi che è qualcosa di incredibile spingi che è qualcosa di fantastico allora ve la faccio rivedere meglio eccola qua samurai box noi abbiamo preso quelle con il modello sportellino nero se no c'è quello sempre modello ottone ovviamente il materiale ottone ogni tanto va pulito prendete un bel panno antiossidamento o come volete voi e la pulite ovviamente non c'è bisogno di andare a pulire chissà che cosa per la lamella perché sapete è in argento per chi non lo sa l'argento non si rovina mai o meglio non si rovina come il rame assolutamente ragazzi samurai box mod mi raccomando condividete il video iscrivetevi al canale e pure sul gruppo facebook cazzo siamo quasi alla soglia dei migli iscritti su youtube però su facebook siamo ancora pochi andate a cercare sto cazzo di gruppo ci divertiamo ciao